Non c'è estate senza un programma che ruoti attorno alla musica, ed ecco infatti che sta per tornare Battiti Live, lo show condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri che quest'anno sarà itinerante in tutta la Puglia. Tanti i nomi di artisti che presenzieranno sul palco e che faranno ballare le piazze pugliesi e i telespettatori, e a proposito di ballo, è proprio la showgirl a mostrare alcuni membri del cast dello show, tra i quali si vede perfettamente Tommaso Stanzani. Elisabetta Gregoraci, proprio in queste ore ha condiviso delle Instagram Stories anche con protagonista Tommaso Stanzani. Tommy Stanzani, inquadrato da Elie Greg, appare molto sorridente e felice di questa sua nuova avventura televisiva dopo Amici 20. Nel mentre anche Tommaso Zorzi, fidanzato di Stanzani, è arrivato in Puglia proprio stamane, per assistere all'evento e stare insieme alla sua dolce mità.